Si riesce a fare qualcosa di più, però bisogna avventurare le quattro ore di più. Che te viene su? Viva con Gianni! No, no, figurati! Io vado anche da solo! Fai la prova di... No, se vuoi fare il petto largo devi portare qualcuno per il terzo. Dovrei andare, però se lo spostasso, semmai facciamo due giri puoi scendere. Sì! Sì, vediamo il volante. Con il cambello lì! Arpa! Andiamo giù! Allora, per ora, dico... ... ... ... ... Comunque, io non so come pulire il volante. Ok, quindi, parto dal presupposto del... ... 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